Salve a tutti, sono Chiara Passa, un'artista visiva e lavoro combinando vari mezzi tecniche tecnologie immersive già dal 1997. Il 12 settembre ci vedremo di nuovo qui alla palestra dell'innovazione per la seconda tranche del workshop sulle realtà immersive dove farò un plugin specifico per After Effects che si chiama Element 3D insieme ad un altro, la Skybox Creator e Converter, per creare realtà virtuale, film, video, animazioni a 360 gradi che poi saranno fruibili tramite Oculus Rift, Google Cardboard, attraverso anche YouTube, attraverso il Vive più PC e altri visori 3D.